Secondo appuntamento dei ranger del parco, oggi abbiamo fatto l'escursione invernale, siamo andati all'interno del bosco, anche se la stagione non era proprio il massimo, un pochino pioveva, e abbiamo raccolto invece tantissimi reperti che ci aiutano un po' a capire quali sono le piante e gli animali più importanti del nostro bosco. Intanto la stagione non è il massimo, piove. Ed è la tipica stagione di questo periodo, però intanto iniziate a guardare un po' che cosa è cambiato. Non ci sono praticamente più foglie. Intanto abbiamo detto che questo è il bosco del Traversante, l'altra volta non abbiamo parlato tantissimo di questo bosco. Oggi questi boschi ormai non ci sono più e da noi in più questo bosco rischerebbe di scomparire per un motivo. Se l'uomo non mantenesse questi specchi d'acqua sempre attivi, quindi pulisse dai detriti, li mantenesse sempre puliti, poco alla volta si impererebbero. Andiamo sulla torretta, che è la torretta che guarda a casa Campotto, la casa di espansione più grande, e andiamo a vedere di fare un pochino di beer watching. Allora, quella che avete di fronte è la casa di espansione più grande, è una delle nostre zone umide più grandi, è questa, ed è casa Campotto. Se vedete, nella nostra zona, l'abbiamo già colorata l'altra volta, ci sono tre zone umide, e sono tre casse di espansione. Abbiamo detto che qua ci finisce l'acqua nei momenti di piena. Quando il reno è troppo alto per ricevere l'acqua, l'acqua dei canali finisce dentro le casse di espansione. Quindi, abbiamo detto, sono zone create dall'uomo. Ce ne sono tre, questa è la più grande, abbiamo detto. E se guardate, oltre a quegli argini laggiù, dove ci sono gli alberi, dall'altra parte c'è l'altra, che è questa più piccolina. Abbiamo raccolto, invece, tantissimi reperti che ci aiutano un po' a capire quali sono le piante e gli animali più importanti del nostro bosco. E state a guardare un po' che cos'è cambiato. Non ci sono praticamente più foglie. Cerchiamo di vedere insieme che cosa abbiamo recuperato, ok? Ovviamente ci hanno anche cose diverse rispetto all'altra volta. Abbiamo detto di cercare soprattutto tracce di animali, quindi abbiamo cercato soprattutto resti, ad esempio, dei gamberi, dei passaggi degli insetti, delle penne. In realtà, poi, abbiamo raccolto un po' di tutto. Abbiamo raccolto un po' di foglie, abbiamo raccolto un po' di schiena e i piedi. Adesso cerchiamo di fare un po' d'ordine, così poi potete completare il vostro quadernino. Abbiamo visto le differenze del bosco in inverno rispetto all'autunno dell'altra volta. Non ci sono più, praticamente, foglie sugli alberi e abbiamo raccolto, invece, tantissimi reperti che ci aiutano un po' a capire quali sono le piante e gli animali più importanti del nostro bosco. Questi reperti adesso li stiamo catalogando, dopodiché col tempo i ragazzi potranno classificarli e metterli all'interno di sacchetti che, in questo modo, costruiranno il loro piccolo archivio della natura.